Adoro questo periodo dell'anno nel quale finalmente possiamo riaccendere il forno e dare spazio alla creatività in cucina creando tanti piatti buoni per la famiglia con alimenti che questa stagione ci offre in abbondanza Nella ricetta di oggi prepareremo tre contorni buonissimi e perfetti per le giornate in cui non hai troppo tempo da passare in cucina Tre idee che si preparano in poco tempo e che potrai portare anche come pranzo a lavoro Andiamo a vedere il procedimento Per realizzare il contorno di zucca e porri ho tagliato a rondelle un porro, dopodiché l'ho aggiunto in una ciotola Poi ho sbucciato la zucca L'ho tagliata a cubetti E l'ho unita insieme al porro Ho sbucciato anche il sedano rapa L'ho tagliato a cubetti E poi l'ho unita insieme agli altri ortaggi Ho condito con dell'olio d'oliva Del sale Dell'aglio in polvere E del rosmarino Ho mescolato bene gli ortaggi E li ho distribuiti in una teglia ricoperta con carta da forno Dopodiché li ho cotti nel forno preriscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti Per il secondo contorno ho tagliato la scarola a pezzi dopo averla sciacquata ed asciugata E l'ho spostata in una ciotola Poi ho grattugiato le carote e le ho unite alla scarola Ho aggiunto anche il tonno dopo averlo sgocciolato Ho tagliato le mele a fettine dopo aver rimosso il torsolo E le ho aggiunte al resto degli ingredienti Infine ho aggiunto i semi Puoi utilizzare dei semi a piacere Di girasole, di zucca oppure delle mandorle o noci Infine ho condito con il succo di limone Dell'olio di vinacciolo e del sale Ho mescolato bene il tutto Ed ecco pronta l'insalata Per il contorno di fagiolini e patate dolci Ho fatto bollire i fagiolini in acqua abbondante Per circa 15 minuti dal bollore Poi ho sbucciato le patate dolci E le ho tagliate a cubetti Le ho aggiunte in una ciotola E poi ho tagliato le cipolle a spicchi Le ho unite insieme alle patate dolci Infine ho schiacciato l'aglio E l'ho tagliato a pezzi grossolanamente Quando i fagiolini hanno cotto Li ho fatti intiepidire E poi li ho tagliati a pezzi Ho unito il tutto in una ciotola E ho condito con dell'olio e del sale Ho distribuito gli ortaggi in una teglia Ricoperta con carta da forno E li ho cotti nel forno preriscaldato A 200 gradi Per circa 20-25 minuti E l'ho tagliato a pezzi grossolanamente E l'ho tagliato a pezzi grossolanamente Spero che queste ricette ti siano piaciute Ricorda che le nostre sono soltanto delle idee E tu potrai sostituire gli ortaggi E utilizzare quelli che preferisci Questi contorni sono perfetti Non solo per i tuoi pasti settimanali Ma anche da proporre come antipasti Per arricchire un baffè senza glutine e latte E tu quale contorno preparerai? Diccelo qui sotto nei commenti E ricorda di iscriverti al nostro canale In questo modo non ti perderai le nostre ricette Per oggi è tutto Ci vediamo nel prossimo video